Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Addicted to Games. Io sono Michele e oggi proseguiamo la rubrica dedicata ai saldi estivi di Steam 2015. In forte sconto l'intera saga di Fallout dal 40 al 75%, con ogni capitolo principale a 2,50€. In sconto anche Resident Evil, l'intera saga dal 50 al 75%, con il sesto ed ultimo capitolo a 7,50€ invece che i suoi 30 originali, con uno sconto del 75%. La saga di Assassin's Creed è scontata dal 50 al 75%, con Unity a 30€ invece che 60€. Per i nostalgici invece consiglio Age of Empires 2 HD Edition, a soli 3€ rispetto che i 20€ originali. Se non avete mai giocato, compratelo. Per chi vuole farsi qualche risata invece è in sconto God Simulator, lo trovate a soli 2,50€ invece che 10€. Per chi vuole uno sparatutto ignorante e divertirsi molto, consiglio la saga di Serious Sam, interamente scontata del 90%. Trovate l'ultimo capitolo, Serious Sam 3, a 2€ invece che 20€. Prendetelo ragazzi. Concludiamo con Ride, un bellissimo titolo di guida a tema motociclistico, totalmente made in Italy. Lo trovate a 20€ invece che 40, con uno sconto del 50%. Bene ragazzi, questi sono gli sconti di oggi. Direi che con il passare delle giornate i saldi di Steam stanno migliorando di qualità. Voi cosa ne pensate? Cosa avete comprato? Se avete altri giochi da segnalare, usate i commenti e parliamone insieme. Bene ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!